Gli auguri di Natale, ieri sono stato a Formia per il Presepe di Maranola e questa sera abbiamo incontri importanti per il ricordo di Cavalier D'Arpino e di Pietro Bracci che è un grande scultore, viene da Palombelli perché ci teneva molto a essere a D'Arpino, parliamo del libro che ho scritto su Michelangelo e c'è uno spettacolo teatrale di Giovanni Testori, il grande drammaturgo cattolico e quindi sono felice a Frosinone di fare gli auguri a tutti i cittadini che seguono la vostra rete, vorrei anche aggiungere che è importante che la fondazione Mastroiani nel nome di quello scultore che è così significativo agisca d'accordo con il comune e non contro il comune, le azioni contro il comune non sono accettabili per una fondazione che deve tenere alto il nome di un grande scultore come Mastroiani.